San Giannati prego, tu ci devi aiutare. Il tuo cappello è pieno di gemme preziosi, ma non ne basterebbe uno. Vai tranquillo, vai! Lo puoi fare! Quindi ne possiamo prendere anche due? Piano! Lo esagerate, basta uno. Per mettere le mani su quei gioielli ci vorrebbero Giorgio Cluney e Brad Pitt e io come soggio dei caffettinati fai la mia cognata Rosetta senza offesa. Abbiamo bisogno di un cavallo di Troia per arrivare al tesoro. Io un piano ce l'avrei, però non serve un cavallo. Corre solo la Troia? Io a Torino sinceramente non ci vorrei andare. Là c'è il cofo del traditore. Gonzale Guaino! Ma che d'affanculo tutti e due, no? Una si è nata, no? Io voglio vedere i faraoni. I faraoni? Quando siamo a Capri te li faccio vedere. Io sei i faraglioni, i faraoni al Museo Egizio. Questa è la pianta del Museo Cozzani. Quindi come andiamo? Volando? Volando. Sempre che è pronto il costume da battere, perché stiamo in Torino. Ieri notte hanno tentato di rubare il tesoro di San Gennaro. Non vi preoccupate Cassi, fin dentro oggi ci pensiamo noi. 20 centimetri sotto il chiodo, sulla destra. La verità la taglia sta mano. Ma dove sta il cappello di San Gennaro? Era un furto sul commissione per un collezionista olandese. Mamma arriva fino a Bucarest. Non dite Amsterdam. Ma che Amsterdam? E' a Cannes. Tu non vai da nessuna parte. E' un polliciotto? Non sono un polliciotto. Ah, è una torre di comoda. Ci sei andato quasi vicino. Tutta la colpa di questo ragazzino. Ha rubato pure il drone. Si dice drone. Che dici aeroplani? Aeroplano, drone. Volano. Nanos dopo. &